buongiorno e buona domenica a tutti quanti oggi ci troviamo in un paesino situato al centro del lazio più precisamente all'interno della riserva naturale dei monti lucretili ed è un paesino formato solo da 225 persone benvenuti a per cile un paesino formato solo da 225 persone benvenuti a per cile un paesino formato solo da 225 persone benvenuti a per cile allora questa da mie spalle è un palazzo come potete benvenire è tutto quanto disabitato e abbandonato qual è la particolarità di questo palazzo è che durante la seconda guerra mondiale fu base dei nazisti e dopo la liberazione gli abitanti di per cile decisero di non rimetterlo a posto proprio per non ricordare i tragici momenti della seconda guerra mondiale abbiamo mangiato tanto troppo troppo valle della luna parte 3 zucca stregata però questa volta dove siamo? siamo ai lacchetti di per cile per more ai cosiddetti lagustelli chi è che sa l'origine di questi laghi? io no vai che Serena lo sa ah si vai vai sono? io tipo la terra che sei che facci del nord asteroide origine? vulcanica car cacar 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 bravo cedimento del terreno sottostante cedimento del terreno sottostante bossa, acqua, lago Fabio, l'hai segnato poco fa sui difendi anni? no, ieri sera Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo via le cacchi, le mosche, mandiamo via le mosche Allora il nostro giro ai laghetti termina qui con le mosche che ci stanno assalendo Confermi confermi Allora il nostro giro è Sardinia! Allora il nostro giro ai laghetti termina qui con le mosche che ci stanno assalendo